La prima serata di Sanremo 2016 è terminata, il festival è partito senza particolari sussulti. Qui sottubbiamo siamo pronti per svelarvi e promossi ai bocciati della prima puntata. Non perdiamo altro tempo e cominciamo. Partiamo dai conduttori. Se Carlo Conti è una garanzia, lo stesso non si può dire dei suoi compagni di viaggio. Maralino Ghenea ha il fascino e l'eleganza di una modella, che peraltro è. A parte ciò, per conduttore Sanremo ci vuole di più. Del quartetto alla conduzione si salva solo Virginia Raffaele. La comica romana non fa nulla di eccezionale, ci mette un po' a carburare, ma perlomeno strappa qualche risata. Missione impossibile per il trio Aldo Giovanni e Giacomo, mai visti così sottotono. Imbarazzante Gabriele Braco. Si aggira sul palco dell'Ariston in evidente difficoltà e è disperatamente aggrappato al gobbo, senza il quale sarebbe un uomo morto. Menzione speciale per Laura Pausini e Elton John. Così diversi ma così simili nel regalare emozioni al pubblico. Per quanto riguarda i cantanti, promossi a pieni voti Enrico Ruggeri. Gli stadio al Rock Covenant. Appena sufficiente il ritorno di Blu Evertino. Al di sotto delle aspettative Noemi. La grande e favorita, Arisa e Lorenzo Fragola. A serio rischio eliminazione. Infine, troviamo Irene Fornacciari, e la coppia, Deborah Jurato e Giovanni Caccano.